a garantire occupazione e profittability. Se noi ancora abbiamo interi reparti a Catania nella cosiddetta Etna Valley, che doveva essere nelle intenzioni originarie di Pasquale Pistorio la Silicon Valley italiana, dicevo se rimaniamo a produrre tecnologie che risalgono agli anni 80, ormai 90, perché sono subwoofer di silicio piccoli, i quali non consentono più di avere una integrazione di microchip che sia competitiva rispetto allo scenario internazionale, chiaramente quei reparti sono destinati al fallimento. E allora io sono certo che questo non lo vuole nessuno e sono convinto che il Ministero dello Sviluppo Economico saprà darmi risposte rispetto a questo tema e avremo sicuramente in futuro poi modalità per interagire, per rapportarci e per portare avanti questo progetto sulla microelettronica. Grazie. La ringrazio. Adesso il sottosegretario Giacomelli ha facoltà di rispondere. Grazie. Sì, signor Presidente. Vorrei ricordare, è stato citato nella interpellanza, che nel febbraio nel 2014 la costituzione di un tavolo di confronto permanente sul settore della microelettronica, presieduto dall'allora Vice Ministro, Professor De Vincenti, fu dettato dall'esigenza di mantenere nel nostro Paese le numerose qualificate risorse umane e soprattutto le imprese in esso impegnate alla luce dei casi di grandi aziende del comparto. I primi confronti o le rappresentanze di categorie hanno fatto emergere come le problematiche correlate di molteplici PMI che operano nella componentistica sub fornitori del settore abbiano tematiche direttrici di sviluppo parzialmente sovrapponibili a quella delle medie e grandi imprese della microelettronica. Il Ministero ha quindi istituito un gruppo di lavoro per la redazione di un piano di settore che, partendo dall'analisi delle contingenze, potesse delineare le migliori pratiche attivabili per consolidare il patrimonio industriale in questo specifico segmento. Nel piano si delineano le possibili azioni positive attivabili per lo sviluppo del comparto nel medio-lungo termine. Il piano effettua una disamina delle caratteristiche e della valenza economica del settore, con riferimento alle competenze consolidate in ambito nazionale e in raffronto alle strategie di sviluppo tecnologiche delineate nell'ambito del nuovo programma Horizon 2020, che attraverso il paradigma delle key enabling technologies include la micro e la nano elettronica. L'analisi tiene conto degli orientamenti della Commissione europea per la specializzazione intelligente riguardanti il ruolo della nano e micro elettronica anche nell'ambito delle politiche di coesione, favorendo la crescita delle diverse regioni per aumentare la capacità competitiva e la possibilità di connessione con la catena industriale del valore di altre regioni d'Europa. Queste considerazioni evidenzano la possibilità del nostro Paese di invertire la tendenza alla deindustrializzazione e rimanere al passo dei principali concorrenti internazionali, necessariamente passando per una forte e solida strategia nazionale sulle tecnologie abilitanti fondamentali. Sono stati inoltre esaminati gli aspetti specifici dei settori e gli ambiti applicativi trainanti per la micro elettronica, dove maggiore risulta essere l'impatto delle tecnologie microlettiche, nonché i necessari riferimenti a livello scientifico e accademico e più in generale il ruolo fondamentale che le istituzioni educative, in primis le università, possono e devono svolgere per la crescita e il miglioramento del contesto socio-economico. Il tema del posizionamento dell'apparato produttivo di settore passa attraverso la necessità di risorse particolarmente qualificate e delle possibilità che le stesse possano essere formate nell'ambito dei programmi di medio termine coordinati tra pubblico e privato. Sono state infine affrontate le linee per rilanciare la competitività sul mercato globale delle imprese e del settore microelettrico, valorizzando le competenze caratteristiche italiane e le possibili aree di intervento, le quali la politica industriale, la capitalizzazione delle PMI, l'attrazione degli investimenti esteri, il ruolo della ricerca pubblica, strumenti di sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione, e pianificazione degli interventi, quadro di regole certe univoche, semplificazione amministrativa e altre misure per la crescita più in generale delle PMI e l'incremento alla catena del valore. Alla luce delle analisi effettuate in accoglimento di quanto emerso nella riunione plenaria del tavolo sulla microelettrica del settembre 2014, è stato quindi predisposto un documento strategico per il rilancio del settore che sarà presentato alle rappresentanze settoriali e alle organizzazioni sindacali tra pochi giorni nel prossimo incontro del mese di novembre. La ringrazio. Il deputato currò a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sì, intanto ringrazio il sottosegretario. Quindi questa notizia che mi sta dando, che ci sta dando oggi, quindi è interessante. Allora, quindi il documento è stato dunque redatto e verrà presentato a novembre di fronte appunto alle rappresentanze sindacali. Di questo sono sicuramente soddisfatto. Quindi ritengo che il Ministero dello Scrippo Economico debba continuare in questo lavoro, in questa attività di approfondimento del settore della microelettronica. Lei stesso, sottosegretario, ha riconosciuto, riconosce, perché è competente in questa materia, che il ruolo delle cosiddette appunto tecnologie abilitanti fondamentali per il nostro Paese è un ruolo assai strategico.